I seggi sono chiusi da pochi minuti, siamo qui davanti al point di Claudio Scaiola, siamo in attesa dei risultati anche dell'affluenza, con un ospite d'accezione Antonio Russo, che non è il mistero, lei sostiene l'ex ministro. Sì, un tempo non sospetto, nel senso che molto tempo fa, dopo che mi sono dimesso dal consigliere comunale per il mancato raggiungimento dell'obiettivo che mi ero dato dell'avviamento del servizio di porta a porta per i rifiuti, ho fatto la mia indagine con i candidati sindaci, ho chiesto a ognuno di loro di appoggiare il progetto rifiuti zero e di conseguenza il porta a porta, quello che era stato il mio lavoro e le mie attività in questi anni di consigliere comunale. Ho trovato in Scaiola la persona che da subito mi ha dato fiducia su questo tema, oltretutto in una situazione abbastanza libera per me, perché libera da partiti, da movimenti e di quant'altro, quindi era la persona ideale per poter appoggiare, per poter realizzare il progetto che avevo in mente. Quindi ho dato il mio appoggio alla sua campagna in funzione del progetto che lui subito tra l'altro ha preso al volo, perché il primo punto del suo programma era in vera e pulita, e l'ha subito integrato con il discorso della strategia rifiuti zero, quindi ha capito al volo qual era l'obiettivo del progetto e l'ha subito fatto suo. Non c'è ancora il dato ufficiale dell'affluenza, ma insomma sembra che non sia altissima, ecco. No, volevo chiedere un commento anche su questo, insomma, sembra che le due soluzioni, l'anteriore e Scaiola, non piacciono tanto ai cittadini. Io non sono una lista tale da poter dare delle valutazioni di questo genere, spettano ad altre persone. Io ho mancato l'affluenza dei voti, non è che in questo ballottaggio, ma forse si è un po' esagerato da parte di qualcuno, ma insomma, come dire, negli atteggiamenti che mal si coniugano con il valore della partecipazione. Quindi forse questo può essere stato uno dei motivi. È un'influenza secondo me, perché comunque il primo risultato del 10 di giugno è stato quello che ha determinato il risultato. Credo che oggi si va solamente a formalizzare questo, quindi la mancanza di fiducia forse dall'altra parte è inutile andare a votare probabilmente, perché il risultato potrebbe essere quello. Forse questo può essere una risposta. Siamo qui dal point di Luca Lanteri, le urne sono appena state chiuse, siamo in attesa dei primi risultati dello spoglio di questo ballottaggio, siamo con l'onorevole Di Muro. Onorevole, un commento su questo ballottaggio, siamo in attesa appunto dei risultati. Avete circa 7 punti da rimontare. Un suo parere, un suo commento, una sensazione? Ma intanto devo dire che è stata una campagna elettorale accesa, come si facevano una volta, quindi è tornato l'entusiasmo di far politica. Il primo dato che commenteremo quando arriverà sarà l'affluenza. Credo sia andata bene, e quindi nonostante ovviamente i dati di soliti sull'affluenza che non sono mai i dati del primo turno, e quindi commenteremo questi prima di tutto. Poi penso che nella prima mezz'ora, semmai la prima ora, avremo qualche numero e potremo commentare, avere già un'idea di chi sarà il nuovo sindaco di Imperia. Ecco, appunto, un'affluenza più bassa rispetto a quello del primo turno. Alle 19 si attestava attorno al 38%, comunque non vi preoccupa questo calo? No, è un calo fisiologico in tutta Italia, quindi credo che Imperia sarà invece un esempio positivo di affluenza, ripeto, rispetto all'affluenza media dei ballottaggi, che sono sempre minore rispetto al primo turno, dove ci sono più candidati sindaci, più candidati consiglieri di tante liste che si impegnano, quindi direi che in realtà l'affluenza si può leggere come positiva se è raffrontata agli altri dati degli altri comuni d'Italia. Grazie onorevole, noi rimaniamo in attesa dei primi risultati.